Cosa è la bellezza? Direi che è difficile definire che cos'è bellezza perché comunque è un parametro culturale variabile variabile dal punto di vista da chi lo percepisce variabile anche nel tempo perché comunque è trasformabile nel tempo sia come idea collettiva di definizione di un gruppo di persone perché magari questo gruppo si trasforma spazialmente o culturalmente o temporalmente e dunque anche per una persona singola dunque anche il mio concetto personale di bellezza sicuramente si trasforma ciò che mi permette di sviluppare una scala di percezione da poter condividere forse il bello è ciò che ci permette di leggere il mondo di capirlo, di interpretarlo